Un'automobile importante, Fiat 130 Coupé 3200 Pininfarina. Un grande impegno nel costruirla, nel rifinirla, nel collaudarla. Una giornata di prove per ogni 130. Ogni 130 un collaudatore. E' un mondo tutto diverso. La qualità di una 3 litri nasce da questo impegno. Fiat 130 Coupé, l'alternativa italiana nella scelta di una 3 litri.